Anche quest'anno Rai 3 è il primo maggio, è il concertone di Piazza San Giovanni di CGL Cisle Will, tantissimi artisti, tantissimi pensieri e riflessioni sul diritto al lavoro, quest'anno anche sulla chiaramente tragedia avvenuta pochi giorni fa a Lampedusa, ma anche una festa della musica, un volto di rete come Camilla Rasnovic, una lunga diretta dalle 3 del pomeriggio fino a mezzanotte. Vi aspettiamo! Cast stellare, come si dice in questi casi, tanti ritorni di grandi cantanti, insomma, veramente penso che sia uno dei concertoni più ricchi da un punto di vista artistico e musicale degli ultimi anni. La Rasnovic sarà la conduttrice guida principale, poi appunto, visto che sono i 25 anni, gli organizzatori hanno avuto questa bella idea di richiamare alcuni dei conduttori delle edizioni storiche, che quindi a poco a poco faranno, come dire, non da valletti, ma insomma daranno una mano e ritroveranno quell'emozione, perché davvero quel palcoscenico, con quella marea di folla, è qualcosa di particolarmente emozionante. Grazie!